manco me lo ricordo eh, alle scuole elementari, esatto che non so perché ci andavamo a piazza Armerina ma sai, manco me lo sto ricordando sì, ma per quale motivo non me lo ricordo caccia di nero, una striscia continua distrutta grazie a tutti si si, no, è inutile ti puoi comprare la conchiglia ogni volta e no vabbè vabbè no vabbè no vabbè no vabbè giusto, giusto che poi potrebbero tagliare lì dove c'erano le indicazioni che si vedeva a malapena no vabbè 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 Grazie a tutti 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 Bella a tutti Grazie 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 a tutti Honda Honda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti